Ciao a tutti, oggi è una giornata un po' triste, c'è stato l'attentato terroristico qui a San Pietroburgo, immagino che ne avete sentito parlare, familiari, amici, voglio dire sì che qui stiamo tutti bene. Cosa si può dire di questo? Beh, è difficile commentare episodi così. Una cosa che però ho osservato, guardando su internet le reazioni della gente, è la mancanza di sorpresa. Sembra che se lo aspettassero tutti, anzi forse la sorpresa è che si sia dovuto aspettare così tanto. C'era già stato, se ricordate, un attacco terroristico che ha battuto l'aereo sul Sinai, in Egitto. Anche quell'aereo mi pare che fosse, avesse come destinazione San Pietroburgo. Vabbè, può anche essere una coincidenza. Immagino se i terroristi attaccano dove ne hanno l'opportunità, non faccio fatica a vedere piani per decidere se attaccare Mosco o San Pietroburgo. Penso attacchino quello che riescono ad attaccare. L'unica cosa che mi è sembrata un po' strana, ma anche qui è presto per commentare, probabilmente si spiegherà tutto, è il fatto che sono state due bombe. Una è esplosa nella metro e l'altra invece è stata trovata in una borsetta abbandonata, sempre all'interno della metro, che non è esplosa. Non so se aveva il timer, l'hanno scoperta in tempo, insomma, ma era lasciata lì proprio in bella mostra. A meno che questa borsa non esplose, sia stata depositata dalla stessa persona, che poi è entrata in metro e si è fatta esplodere con l'altra, ecco, sembra un po' strano. C'è l'idea che la borsa sia stata lasciata lì da qualcuno e che dopo sia andato via, ossia non si sia fatto esplodere. Sì, non andrebbe molto di pari passo con l'ipotesi che sia un attacco terroristico di natura islamista, diciamo, perché in genere quella gente si fa martire, si fanno saltare per aria anche loro. E quindi, ecco, questo è l'unico dubbio che mi fa pensare che potrebbe anche non essere di natura islamista. Però, anche qui, la spiegazione è più semplice. Adesso, proprio adesso, ci sono le notizie che dicono che le telecamere del circuito della metropolitana hanno individuato, hanno visto la persona che ha lasciato questa borsetta, allora probabilmente si chiarirà tutto. Immagino sia stata la stessa persona che dopo è entrata nella metropolitana si è fatta esplodere. Ma vediamo. Comunque, sì, l'ipotesi, secondo me, è quella di una vendetta da parte di islamisti radicali legata all'intervento armato, l'intervento militare della Russia in Siria. Stessa cosa che è successa quando è esploso l'aereo sul Sinai. Ce ne saranno ancora, è molto probabile. Ed è per questo che comunque la Russia preferisce attaccare gli islamici radicali in Siria piuttosto che sul territorio russo, la Cecenia o Dagestan. Ok, tutto qua. Aspettiamo di avere altre notizie. Il numero di morti è probabilmente destinato a salire. Speriamo di no, ma ci sono tanti feriti gravi. Vi saluto, buona giornata.